Se ami viaggiare, se ti piace comunicare con le persone e se ti attira al mondo delle agenzie di viaggio, dei tour, dei pacchetti vacanza, allora ti aspettiamo all'Istituto Tecnico per il Turismo di Schidimbergo. Imparerai tre lingue straniere a utilizzare strumenti multimediali per promuovere i servizi turistici, a valorizzare il patrimonio artistico e culturale del tuo territorio. Imparerai a progettare, a organizzare e promuovere prodotti per le vacanze, il turismo, eventi aggregativi e sportivi. Inserirai queste tue conoscenze in un interessante contesto geografico, economico e sociologico. Per essere pronto ad entrare nel mondo del lavoro, ma anche per proseguire gli studi. Vi presento l'Istituto Il Tagliamento, un nome significativo che rappresenta l'interesse e l'attenzione che l'intera comunità scolastica ha nei confronti dell'ambiente e del suo territorio. La scuola offre tre indirizzi, l'agrario, l'industriale ed il turistico. Dispone poi di numerosi laboratori a partire dall'azienda agraria, i laboratori di trasformazione dei prodotti, di produzioni vegetali ed animali e meristematica, per quanto riguarda l'agrario, i laboratori di sistemi, energia e meccanica per l'industriale e, da ultimo, per il turistico, i laboratori linguistici ed informatici. La scuola, inoltre, è polo per l'inclusione all'interno della provincia di Pordenone. Vi aspettiamo, veniteci a trovare!